Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di Groot che dice di piantare un seme sull'isola a forma di cuore. L'isola a forma di cuore sta qua, come potete vedere ha la forma di un cuore, si trova qui vicino sabbie sudate, non potete assolutamente sbagliarvi. La prima cosa da fare è quella di sbloccare Groot come personaggio o meglio skin giocabile. Dopodiché dovete arrivare al livello 46 del pass battaglia per sbloccare le due sfide di Groot. La prima sfida è questa qui, quindi dovete raggiungere l'isola a forma di cuore e piantare una piantina insomma con Groot, quindi non arrivateci con altri personaggi o skin perché non serve assolutamente a nulla. Vedete qui c'è tipo un po' di terreno, terriccio tipo? Dovete avvicinarvi qua e voilà, la sfida è completata.